Sono uno spirito libero al 100%. La mia arma di seduzione è il mio sguardo. Sono gay, queer, black e very, very, very mother****** proud. Io mi chiamo Asia, ho 23 anni e vivo a Firenze. Nella vita sono una fotomodella e ragazza immagine. Amo tantissimo farmi fare le foto e questa è una delle mie foto di preferite. Nella vita ho soltanto fatto questo lavoro perché non mi piace lavorare. Quindi diciamo che finché la bellezza regge farò questo. Per me non esiste una serata senza gloss e borsetta. Io ho uno stile molto versatile, nel senso che mi piace vestirmi colorata, molto eccentrica come la mia personalità perché sono molto esuberante. Sono uno spirito libero al 100%. La mia arma di seduzione è il mio sguardo perché è difficile resistermi. Io sono molto gelosa e l'ultima volta che una ragazza mi ha fatto arrabbiare tantissimo l'ho rovesciato un drink in testa. Chiamo Vacanze Ideale, un posto pieno di belle persone, mare e feste. Mi piace tantissimo andare a Ibiza, è la mia meta preferita da un anno a questa parte. Da questa vacanza mi aspetto di creare bei legami, spero di divertirmi un sacco e soprattutto che ci siano tantissime sorprese che mi aspettano. Oh 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 ok, giro per Milano come sa te, se lo dico poi lo faccio veramente, tu ancora che ci speri tipo vorrei. Sono Axel, ho 23 anni e vengo da Monza. Sono un rapper e modello monzese e il mio nome d'arte è Bad Axel. Bad b***** perché faccio canzoni con contenuti molto espliciti, più di ciotto. sono gay, queer, black e very 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 mad b***** proud. Sono un ragazzo molto peace and love e sensibile. Mi descriverei come un emotional gangster perché sono sensitive ma so anche tirare fuori la pistola quando ne serve. I like to speak English perché quando sono il mio alter ego americano I'm unstoppable. Beyoncé mi ispira molto per le sue wigs, i suoi balletti, i suoi body. Per questo mi ispiro perché ogni giorno voglio sentirmi Beyoncé girl. Sono trasgressivo perché mi dà un senso di libertà. Mi piace quando arrivo in una stanza e tutte le teste si girano. Because as a queen I have to be look at. Nel sesso sono una vera passiva con l'acqua. Sono qui perché mi piace l'avventura, riconoscere nuove persone, nuovi ragazzi hot e avere l'estate migliore della mia like. Grazie. 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 Grazie.